Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. L'alba di questa mattina è stato arrestato un albanese diciottenne per tentata rapina nei confronti di un padovano di 37 anni che lo aveva sorpreso mentre tentava di rubare all'interno della propria abitazione nel quartiere Forcellini insieme ad altri due malviventi. L'uomo e la sorella trentottenne con lui convivente sono stati svegliati di soprassalto da rumori provenienti dal salone al secondo piano della loro villetta bifamiliare. Vistisi scoperti, uno dei tre, l'albanese, ha tentato di aggredire il proprietario di casa, riuscendo così a fuggire dalla finestra insieme ai complici. Alle 5 e mezza la vittima ha alertato il 113 e poco dopo gli agenti hanno intercettato il malvivente nelle vicinanze della villetta. Il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro. Le indagini proseguono per l'individuazione degli altri due complici. Si è avvicinata alla vetrina della galleria Vecchiato in pieno centro a Padova, ovviamente ha rubato un poster che pubblicizzava la mostra The Cell dell'artista Gallori. E a riprendere il furto ci hanno pensato le telecamere di videosorveglianza che immortalano la giovane ladra, mentre srotola la locandina e tutta spiegazzata se la porta via. E ancora alle 11 del prossimo 20 giugno, presso l'Autofficina Comunale di Viale Codalunga 1, il settore contratti appalti e provveditorato metterà all'asta tramite l'Istituto Vendite Giudiziarie di Padova dei mezzi di proprietà comunale, come un'autovettura, un autocarro leggero, un autocarro pesante con lama spazzaneve, cinque motocicli ed un ciclomotore. Acegas, APS, Agma informano che mercoledì 15 giugno potrebbero verificarsi dei disagi nello svolgimento dei servizi ambientali. Anche alle stazioni ecologiche causa uno sciopero nazionale di tutta la giornata rivolto ai lavoratori del settore con contratto collettivo proclamato dalle varie organizzazioni sindacali nazionali di categoria. Acegas, APM, APS e Amga ricordano che saranno garantite le prestazioni minime assicurate per legge e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale regolarità. Oltre 30 società di nuoto hanno aderito quest'anno alla sedicesima edizione del trofeo di nuoto Città del Santo, in programma per l'intera giornata di domani, 11 giugno, agli impianti di Padova Nuoto alla Paltana. Manifestazione che di anno in anno ha sfornato tante nuove leve del nuoto nazionale, come Alice Carpanese, Matteo Furlan, ed altri come Angalia Pezzato, Andrea Toniato, ma anche Cinzia Rampazzo, oggi assessore allo sport del comune di Padova, che è intervenuta alla presentazione della manifestazione natatoria. Sentiamo le interviste. Sì, abbiamo recuperato questo nuovo trofeo del Santo che una volta, oltre 30 anni fa, aveva un ruolo internazionale. Lentamente siamo cresciuti. Credo che quest'anno avremo la possibilità di avere oltre 30 squadre iscritte e credo da 6 a 8 atleti che parteciperanno alle Olimpiadi a Rio. Quindi un grande evento. Padova se lo merita. È sempre stata una città dove il nuoto ha sempre rappresentato un movimento sportivo importante. Credo che quindi l'impegno che c'è da parte dell'amministrazione, da parte della società sportiva Padova Nuoto vengono anche valorizzate proprio con questi grandi eventi. E torniamo alla cronaca. Centinaia di capi di abbigliamento d'alta moda e di elementi di arredo interni di lusso rigorosamente contraffatti sarebbero stati prodotti con tessuti taroccati e sequestrati dalla Guardia di Finanza di Venezia. 2000 metri quadri di tessuto contraffatto pari a 8 campi da tennis. I cercanti marchi Barbary, Gucci, Fendi e Louis Vuitton sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Venezia tra San Donato di Piave, Cazzago di Pianiga, Ceggia e la città di Arezzo. Cinque soggetti denunciati, tutti di nazionalità italiana in qualità di titolari e legali rappresentanti di altrettanti cinque esercizi coinvolti nell'illecito quanto proficuo traffico. Le perquisizioni staccattate dopo un'intensa attività investigativa hanno permesso di individuare e scardinare un'intera filiera che distribuiva in tutta Italia tessuto contraffatto. Ancora la cronaca. Lei ha 12 anni ed è una studentessa delle scuole medie. Lui invece ne ha 17 e va alle superiori. Tra qualche mese diventeranno dei genitori. Baby genitori perché la coppia ha scoperto da poco di aspettare un bambino. Ha deciso però di tenerlo con l'aiuto dei futuri nonni che dopo lo shock iniziale si sono resi disponibili ad aiutarli. La piccola futura mamma si sarebbe rivolta al consultorio dell'USAL al primo ritardo e così si è messa in piedi la macchina dell'ULS che prevede oltre ai controlli di routine per la futura mamma anche un supporto psicologico per i ragazzi che tra qualche mese si troveranno di fronte ad una cosa decisamente più grande di loro. Almeno in questa società. È morto invece tra le braccia della moglie incinta di poche settimane. Vanni Babetto, 32 anni, gestore di una pizzeria al Porteo. Si è sentito male tra mercoledì e giovedì mentre era a letto nella casa di Villatora di Saonara nel Padovano dove viveva con Sara Gervaso in attesa della loro prima figlia. Un infarto che non gli ha lasciato scampo. Il 32enne si è sentito male all'improvviso e l'intervento del 118 purtroppo è stato inutile. Al termine di un lungo e faticoso inseguimento in auto per le strade di Camin all'alba di quest'oggi i vigili urbani hanno fermato MS, uno dei capi del vicino campo nomadi comunale di Via Longin che era alla guida di un'auto con a bordo tre bambini senza patente perché già ritirata e senza assicurazione. L'uomo, uno dei principali esponenti delle famiglie Rom italiane che da oltre un decennio si sono stabilizzate in un terreno di proprietà comunale a due passi dall'inceneritore di San Nazaro non si è fermato all'alt degli agenti. E così è andato di scena il vero e proprio inseguimento a tratti spettacolari lungo la via Vigonovese e nelle strade limitrofi. E alla fine MS è stato bloccato e gli sono state contestate la guida senza patente e quella di guida senza assicurazione. Reati che potrebbero trasformarsi, al di là del fermo amministrativo, anche per tre mesi, di una maximulta di 30.000 euro. L'uomo, per la cronaca, è già da parecchio tempo noto alle forze dell'ordine. E aveva nascosto mezzo chilogrammo di cocaina nello zainetto della figlia di 10 anni seduta nel sedile posteriore della propria auto. Una donna di 49 anni di Lendinara, in provincia di Rovigo, è stata scoperta dai carabinieri ed è stata arrestata. La donna alla guida dell'auto stava procedendo a velocità sostenuto lunga la Transpolesana quando è stata bloccata da una pattuglia d'allarma che poi ha scoperto lo stupefacente. La donna Bidella, in una scuola del Rodigino, è sposata con un ord africano. Aveva nascosto il quantitativo di cocaina equivalente a circa 200.000 euro nello zainetto della figlia nel tentativo di sfuggire ad eventuali controlli. Alla presenza di autorità cittadine, politiche, militari, religiose e di oltre 100 invitati in rappresentanza dei settori imprenditoriali, finanziari, economici e professionali, venerdì, cioè quest'oggi, è stata inaugurata al termine di un accurato restauro la dimora storica Villa Paola in via Roma 1 a Saunara alle porte di Padova. Accanto alla villa, assorta nei primi anni del Novecento, già ben nota, e restituita ora alla sua antica bellezza, arredata con gusto e raffinatezza, ha suscitato grande emozione e attenzione anche l'inaugurazione del Chiubo, la nuova struttura in cemento e acciaio, totalmente rivestita in vetro, opera dell'architetto padovano Giamaria Antonio Scalcon. Il Chiubo è immerso nella villa, nel parco della villa e con la sua trasparenza e la sua immagine naturalistica e innovativa, bensì combina con l'architettura storica della villa che offre anche l'opportunità di dare ospitalità con la sua detuazione di camere, suite e appartamenti anche per un tranquillo riposo nella campagna veneta. Chiudiamo qui la nostra pagina di informazione, grazie per averci seguito, ora la linea passa ai colleghi delle altre redazioni. Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video,